Il punto nascita dell'ospedale di Sulmona sarà sostituito da sistemi emergenziali, il trasporto materno assistito, STAN, e il trasporto di emergenza neonatale, lo STAN, per effettuare parti negli ospedali dell'Aquila e di Avezzano, e quando lasciato in dendere, il manager dell'ASL, Rinaldo Tordera, in un'intervista su Abruzzo Web. Il punto nascita di Sulmona temo che debba chiudere, non vedo alternative, ha detto il direttore generale dell'azienda sanitaria. Tordera assicura che saranno garantite in tutta la provincia le risposte adeguate e ottimali alle esigenze di buona sanità. L'unica speranza per le sorti del riparto di maternità Peligno è data dalla deroga alla luce del nuovo decreto Lorenzini del novembre scorso per i punti nascita montani, deroga già bocciata però recentemente dal Comitato per Corso Nascita regionale. Resta sempre in ballo la politica, che ha il potere di invertire la tendenza. Da reparto stanno facendo i salti mortali per mantenere in vita il presidio, con incontri su salute e fertilità sul territorio e abbattimento dei tempi di attesa per le visite programmate a giugno.